che siamo rimasti male aiuti se non ci fossero ragazzini di vent'anni 20 anni ragazzine che sono venuto a darci mano ma così aiuti da altri o da chi dovrebbe dargli zero cosa ha perso lei casa il camo perra tutto macchina fultone e tutto qua le giucche le bucce sono qui più o meno dalle 9 e mezzo 10 ci siamo ritrovati tutti quanti la al municipio tra il comune che davano un po' tutte le varie attrezzi poi a quel punto siamo recati nel centro che buona parte alla casa per un seppo di fango e quindi a questo punto ci siamo messi la inizialmente abbiamo semplicemente spalato poi siamo andati anche più avanti abbiamo preso tutti quanti si che aveva caricato i suoi camion che c'era un solo camion che faceva avanti e indietro quindi tutta quanta la melma sono cresciuta a campi però non sto qui qua e sono venuta insieme a tanti altri amici dalla provincia di firenze ad aiutare perché siamo estremamente addolorati da quello che è successo e quindi vogliamo far ripartire la città al prima possibile siamo andate ad aiutare una filipa giusto qui dietro che ha dovuto buttare via tutto e quindi abbiamo aiutato a giocare il magazzino e a salvare insomma insomma via